Allora Max, ci chiediamo sempre cosa farei da grande e riesci a stupirci. Ma sì, riesco comunque a non fare niente, cioè a fare il fanullone che nonostante tutto ha ancora 46 anni. Alla fine riesco ancora a divertirmi, a fare delle cose nuove, soprattutto quest'anno insomma sono contento che stiano andando così bene le cose dal punto di vista musicale, poi anche questo libro, i concerti. Insomma, è stato un bell'anno e speriamo di proseguire così. Grande calore qui a Firenze da parte del pubblico, tanti libri autografati, cosa ti hanno detto i ragazzi? Ma in linea di massima insomma c'è tanto calore, come dicevi tu giustamente, ci sono complimenti per l'ultimo disco, chi ha già letto il libro comunque si è divertito a leggerlo, insomma sono dei commenti molto molto incoraggianti e quindi sono molto felice in questa cosa. Sì sì sì, che storia è stata la tua, uno strano percorso sicuramente, però dove ti ha portato o più che come iniziamo? Ma è una storia assolutamente strana come dicevi tu giustamente ed è una storia in cui non avrei mai pensato di arrivare a questo punto, cioè di essere ancora dopo 22 anni più o meno di lavoro ancora a fare questo. nessuno avrebbe mai spommesso più di tre mesi di sopravvivenza degli 883, invece alla fine siamo arrivati a 22 anni. Quindi vuol dire che tutto sommato se si ha voglia di scrivere canzoni, di dire qualcosa, si crede soprattutto di avere qualcosa da dire e ci sono possibilità anche per farlo. Senti, hai detto anche una cosa molto carina e piaciuta al pubblico e soprattutto ti ha reso molto umano, tu non credevi in come mai, quindi ci sono dei passaggi nella vita di un uomo dove occorre anche affidarsi magari a quanto più vedono gli altri in noi. Assolutamente, io sostengo da sempre che spesso chi fa un mestiere come il mio, cioè chi scrive canzoni non è il miglior giudice delle proprie cose, perché tu hai un punto di vista, come credo per tutte le professioni tra virgolette creative, chi scrive un libro, chi scrive un articolo di giornale, cioè dobbiamo sempre affidarci al giudizio e al consiglio di chi ha la visione d'insieme, big picture, come dicono gli americani, cioè riesce a inquadrare le cose nel loro contesto. Noi che scriviamo le cose spesso siamo troppo coinvolti e quindi una cosa la vediamo troppo dall'interno, bisogna sempre affidarsi, trovare dei buoni collaboratori e più importante quasi di avere del talento. Grazie Max e bocca al lupo. Crepi il lupo.